Portre al simpatico Iguain di ieri come ospite speciale a Ceposta per i 13 e 9 marzo 2016 c'è stata la presenza anche di un'altra persona, di un'altra VIP che fa parte del mondo della musica. Come ospite speciale infatti c'è stata la bella, brava e simpatica Alessandra Amoroso, la cantante salentina. E' stata la sorpresa di Francesco, quindi il fidanzato Matteo, nuovo taglio di capelli, abito rosso Alessandra ha ascoltato molto commossa la lettera che Francesco ha scritto per il suo compagno per ringraziarlo. Sono qui per dirti grazie perché l'amore non è una cosa scontata, nonostante i miei difetti vi confermi ogni giorno che io sono quello giusto per te. Sono passati tanti anni da quando abbiamo deciso di tenerci per mano, non abbiamo permesso a persone cose di interferire nel nostro amore puro, abbiamo curato il rapporto con i tuoi, i nostri amici, i nostri cani. E' stata la nostra vittoria più grande, solo io e te siamo gli artifici di questa meravigliosa famiglia. Nel bene nel mare cureremo le nostre ferite, sarà bellissimo indecchiare insieme, sempre dandoci da quella mano che ha fatto sì che io e te costruissimo questa famiglia meravigliosa. La bella Alessandra Amoroso è entrata, ha fatto il suo ingresso, accolta da una ovazione di persone che l'hanno applaudita candidamente, che la hanno, tra virgolette, festeggiata, che ne sono rimasti piacevolmente colpiti e soddisfatti da quella presenza aurica, bella e simpatica di una donna straordinaria, favolosa e spettacolare come questa cantante italiana. Insomma, credenti, veramente una puntata buona quella di ieri, in cui abbiamo visto oltre alla presenza di Higuaini, il calciatore spagnolo, ma che milita nella squadra recistica in Napoli, una grande cantante italiana, la bellissima Alessandra Amoroso. Grazie che mi senti il video, termina qua. Un saluto e a presto.